Ezio Noto, tutto pronto per la nuova edizione del Dedalo Festival? Tante iniziative, come sarà strutturata questa edizione? Questa sarà la quindicesima edizione del Dedalo Festival. È sempre un modo per ribadire quanto sia importante promuovere territori attraverso la cultura. Dedalo Festival è esclusivamente questo. Parte da una piccola idea del 2007, quando abbiamo avuto l'intuizione di fare questo processo culturale che prevede la contaminazione di diverse arti attraverso la promozione del territorio. In sintesi è questo. E questo si riproduce anche quest'anno, cambiando chiaramente persone, cambiando location, cambiando struttura, aprendo di più alla letteratura, ai libri, al teatro, eccetera. Quindi saranno quest'anno quattro giornate intensissime, da sabato 6 a martedì 9, dove all'interno ci sono diverse possibilità e diverse aperture appunto alle diverse arti. Il programma nello specifico è difficile perché sicuramente dimenticherei qualcuno, però ogni giorno avremo due libri, presenteremo due libri, un forum e poi ci saranno dei piccoli contatti con artisti del panorama underground, diciamo, dove nella politica del Dedalo Festival puntano sulla qualità più che sulla quantità. E poi ci sarà anche, presenteremo il libro di Gianfranco Iannuzzo, edito da Medinova, che è Gente mia. Ci tenevo a dire anche una cosa per me importante, che il Dedalo è apre quest'anno, si è aperto, abbiamo creato già un rapporto e un gemellaggio con altri festival e quest'anno in particolare abbiamo aperto nella Valle dei Racconti, un festival che si fa nella zona del fiume Torto, che comprende sei comuni per adesso, ma si allargerà la cosa nella zona delle Madonie. Con loro abbiamo intrapreso un percorso che si concentrerà anche in questa edizione del Dedalo Festival, e quindi ci saranno alcuni dei loro rappresentanti per fare un incontro anche sul turismo esperienziale e sull'importanza dei festival nei piccoli comuni per la promozione del territorio. L'ingresso è aperto a tutti ed è libero ed è il primo appuntamento proprio alle 18.30 con la manifestazione inaugurale del 6 di agosto alla Villa Comunale di Caltabellotta. È un'occasione molto importante perché grazie ad Ezio e all'amministrazione comunale la nostra associazione, formata da più di 60 ragazzi, tutti tra i 16 e i 30 anni, riesce a conoscere vari aspetti della cultura, dell'arte, e proprio a Caltabellotta che ha incontrato diverse culture del passato, penso sia meritevole per il nostro paese ricevere questa manifestazione e per i nostri ragazzi dell'associazione potervi partecipare. Avrete modo di incontrare anche personalità importante del mondo dello spettacolo? Sì, ad esempio incontreremo Gaetano Aroni, che abbiamo scelto noi di incontrarlo e di poter confrontare con lui le diverse idee, diversi suggerimenti che un artista come lui potrebbe dare per il nostro futuro. Quindi siamo molto felici di incontrarlo e di poter conoscere nuovi metodi di approccio al teatro. Perché le persone, in particolar modo i giovani, dovrebbero venire a vedere questo festival? Perché penso sia importante per la cultura giovanile e per i giovani di Caltabellotta poter approcciarsi a quello che è il mondo dell'arte in tutte le sue forme. Attraverso l'arte possiamo riuscire a confrontarci in un periodo storico come questo. L'arte aiuta, spinge al confronto e all'ascolto. Quindi penso che per i giovani sia importante poter partecipare a questo festival. Quest'anno il Comune di Caltabellotta ha deciso di sostenere l'iniziativa del Dedalo Festival giunta appunto alla quindicesima edizione. È un'iniziativa molto importante per il nostro territorio appunto perché attraverso il Dedalo si valorizza il nostro territorio e il nostro territorio valorizza chi partecipa appunto al Dedalo. È un'iniziativa che ha a che fare con la bellezza, con l'arte e la cultura. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di vedere tra gli organizzatori molte associazioni tra le tante appunto i Sognattori, un'associazione nata da qualche anno ma che promette bene e lo ha già dimostrato con numerose iniziative di spessore e qualitative. Quindi vederli partecipare assieme ad Ezio alla realizzazione del festival ci lascia ben sperare anche per le prossime edizioni e per l'importanza che questo festival ha per Caltabellotta.